E ZAPE EVERYBODY PARCO DIO Non so con quale scuderia è andato, vero? Non lo so, mettiamo tipo malessia No, veramente, non lo so Cioè basta solo Demi, perché l'ha visto, io mi sono girato Brutta mignotta Già ne è più oveggia Vediamo con chi siamo Sauber questo già mi preoccupa molto Pietro Ok, sono con? Pur con Gutierrez mi sa Aspe Ma vediamo subito No, sono Gutierrez Almeno un pilota buono Ci facciamo il nostro assetto ragazzi No, lo carichiamo perché ce l'ho già fatto E naturalmente No, si parte con l'intervento, non lo so E' un'invista Ma ingegnere, più motivabile Un po' di Tu, quello che fa gesto Quello serve per incitare i piloti Attenzione, una bandiera italiana Anche se non ci sono piloti italiani E' anche una bandiera E' anche una bandiera spagnola Forse per l'arons un po' Però l'italia Qui siamo in casa della Caterham Grande scuderia di favola E intanto partiremo ovviamente Tra i primi 24 Benissimo Tra i primi 10 3G Divertizione Emozionante Di resta gliela mettiamo un derculo Un derculo Chiamerà di culo Non più di resta Inizia il gran premio Inizia il gran premio Ok, me la stanno mettendo sopra il beretano Amo, la frenata Ci lancio io Err Ma porca Attenzione Le frenate Hulkenberg si infila Si infila Nico E gliela mette Tutti in culo Prima posizione E l'ha messa in culo a tutti Ma porca Acqua di merda Stavo spandando In una maniera incredibile E beh Ok Uno se l'ha andata a Coz Freniamo Che sennò ci veniamo Tipo A Bari Anche se siamo in Malessia Però noi andiamo a Bari Con la Sauber Una mega Ferrari Anche se la Sauber Svizzera Ma Svizzera No Sauber Mignota Attenzione Siamo ancora primi Non ci hanno ancora inchiappettato Abbiamo pure due secondi di vantaggio Attenzione La potenza della Sauber Impressionante In questo GP Ok Ok ci stanno per inchiappettare Da Alonso Da Ehi noi siamo Siamo A Ferrar Ehi noi siamo A Ferrar Che ti crede Che ti faccio passare C'è un Alonso A Tentese Di Vetter che è secondo Mi sa che Se c'è qualche francese Se c'è qualche francese che ti segua Non credo proprio Però A noi ci stanno in dibattito Ehi noi ci stanno in dibattito Tipo ora mi scoppiano le lomba. Bello. GP è finita. Infatti le gomme stanno per rovinarsi, non è che sono solo tre giri. Appena arriviamo al terzo giro metto miscela elevata così andiamo più veloce. Intanto mettiamo i freni sul posteriore. Intanto un ritirato. Chi sarà? Poi lo andiamo alla fine. Mettiamo la miscela elevata. Attenzione. Gianni Saubert. Non so chi è il presidente della Saubert o la presidentessa. Ma sicuramente sarà piangendo per il... E sarà morto sarebbe. Come Frank Williams, vero? Beh, ricordo. L'ultimo giro ragazzi, l'ultimo giro. L'ultimo giro ragazzi, l'ultimo giro. Pietro. Siamo facendo tutti i miglior settore. E non ho ancora usato il terzo. Pietro, il pro. ultima curva c'è il retilineo ultima curva l'attenzione la Sauber nella sua carriera sta per andare a vincere il gran premio sbandata incredibile la Sauber di Nico Hülkenberg va a vincere lui Nico Hülkenberg posizioni guadagnate 9 domina la Sauber ora vediamo il nostro compagno di squadra un podio tedesco grazie grazie lo sapeva il nostro compagno quindicesimo vediamo chi si è ritirato Felipe Massa pilota della Ferrari per questa ragazzi un podio tutto tedesco tedesco mamma mia per questo video è tutto lasciate un mi piace commentate iscrivetevi e condividete il video bella raga ciao cinema Grazie a tutti.